perchè? si è illegale fare questa cosa illegale cosa sto facendo? sto inquadrando il muretto uno non vuole neanche inquadrare il muretto? fai un video su questo topico il muretto quindi osserviamo l'architettura del muretto si vuole registrare così alla mucciune senza avvertire più ma qua la mucciune non sto nascondendo niente ha il telefono in mano che cazzo vuol dire? io pure ho sempre il telefono in mano ma non lo faccio vedere questa pietra si pensa sia stata costruita da Cicco nel 1914 nel Paleolitico in realtà è stata comprata da un indiano ma non era un vero indiano perchè buttava le carte per te rirà sempre lui Omer che buttava la lattina era Omer che buttava la lattina all'indiano tipo gli scende la lacrima e poi qualcuno gli dice non ti girare perchè c'era tipo la discarica di oggi quando spostano Springfield quando spostano Springfield non non vuoi fare il buddhistaiolo? no sono curioso voglio capire che minchia vuol dire o vuoi conoscere buddhistaiole non so qual'è la posizione dei buddhisti non so qual'è la posizione dei buddhisti riguardo allo spiegare infernale l'unica cosa che so dei buddhisti è quella che hanno spiegato ai griffin che c'era un buddista vabbè è partito un flashback fa se è difficile come fare un regalo a un buddista ci sono due che fanno un regalo al buddista tieni ti ho comprato questa macchina super potente eccetera e un altro tieni ti ho portato una graffetta è il buddista grazie vi voglio bene nei guanotto e dopo questa è tutto cari amici